E' stata picchiata e rapinata della batteria del telefono cellulare delle chiavi di un appartamento di Favara, nell'Agrigentino, dove furono rubati gioielli e costosi orologi. Ora le due indagate rischiano di finire a processo. Il Pubblico Ministero, infatti, ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di due donne di Favara, di 35 e 20 anni, con l'accusa di rapina aggravata e furto in abitazione. La presunta vittima, invece, si è costituita parte civile. Le due donne avrebbero incontrato e picchiato per strada una 48enne, prendendola a calci fino a farla cadere a terra per sottrarle le chiavi di casa e la batteria del telefono. Nei giorni seguenti avrebbero usato le chiavi dell'appartamento, di proprietà di un'anziana, per entrare e rubare decine di preziosi, fra orecchini, collane, anelli e pezzi di argenteria. L'udienza preliminare dopo il rinvio su richiesta di uno dei difensori è in programma il prossimo 10 luglio.